Ciao ragazze, aggiornamento cosmetici. Allora, ho dato la matitina dell'Avontru Simple Spy e l'ho messa con il rossetto di Essence, lo 07 Natural Beauty. Mi piace molto. Swatch matitina, ma forse ve l'avevo già fatto. Allora, io do la matitina sempre su tutte le labbra e poi il rossettino. A me piace molto. Ecco qua. Ok. Fiamma Prisly, giusto? Io spero di non sbagliare nome. Questo mascara mi era stato consigliato da Lori. Un consiglio davvero ottimo perché dopo qualche giorno che lo sto usando posso dare la mia opinione. che su di me che ho poche ciglia e non sono neanche lunghe fa un bel effetto molto drammatico e fa i grumi come piacciono a me. Io l'ho steso tre o quattro volte. Bisogna stare attenti perché prendo un po' una forma... Quindi forse tre volte anziché quattro sarebbe meglio. Vi faccio vedere l'effetto rossetto. Guardate le ciglia. Io sono molto contenta di questo effetto. Granuloso, sì, drammatico, come piace a me. Mi piace questo mascara. Questo mascara è promosso, probabilmente lo ricomprerò anche, il mark Big Dar... Ricomincio. Big Darin Waterproof Volume Mascara. Eccolo qua. Poi vi volevo far vedere gli ordini che ho fatto alla cosmetica bio mi hanno fatto avere due codici sconto per dei bikini e 20% di sconto usando un codice per ciascun bikini. Quindi io ve lo do volentieri. Fate il fermo immagine perché c'è anche il sito dove prenderlo. Ve lo faccio vedere anche da questa parte. L'altro è questo. Sempre sullo stesso sito. E poi vi faccio vedere il cartoncino della cosmetica bio eccolo qua con il codice sconto valido fino al 31 agosto 2017. Allora, la cosmetica bio non tiene solo Natura Siberica ha anche altri marchi biologici Alchemilla sicuro e poi non mi ricordo dovete dare un'occhiata a curiosare un po' perché io non mi ricordo essendo che ci ho comprato anche un pezzo di Alchemilla mi ricordo che c'è Alchemilla per il resto a voi la curiosata nel sito. Io ragazze vi mando un grosso bacio buona giornata ciao ciao Ciao!